Allora, lei ha prenotato una visa specialistica, ma qui al distretto o online? No, no, al distretto, direttamente al distretto, sì. Mi hanno detto, no, mi hanno prenotato che la prima disponibilità era il 9 gennaio e questo è avvenuto il 30 di agosto. Esatto, sei mesi di attesa e campacavallo, insomma. Il personale andrebbe aumentato qui, secondo lei? A voglia. Sono gente ancora che venga di 7 la mattina qua. Oggi non si vede, non ieri, terribili. La mattina si scrive dove è il foglio, andate a casa, dove io torno, non c'è il foglio, dice venire i carabinieri e tutto... Meglio. Dovrei prendere il numero per fare le senzioni, però sono venuto due stamattina, ma per le due, se tutto va bene, prendere il numero. Lei ha prenotato a farla online, col cellulare? E non ho messo, il medico non l'ha avuto. Ieri hanno fatto fare prima la lista, poi la lista non è buona. Poi adesso i numeri li danno alle due, ieri a mezzogiorno ci hanno dato i numeri. Comunque un casino.